bella a tutti ragazzi qui Enrici e oggi siamo qui per il mercato di gennaio nella nostra modalità carri allenatore con il bari come vedete abbiamo nove punti di vantaggio sulla cremonese che è seconda quindi stiamo andando molto molto bene lo dimostra anche l'overall allora ragazzi abbiamo venduto ufficialmente galano e ci hanno dato i soldi cioè 3 milioni e 3 con 14 mila di stipendi quindi qualche acquisto lo possiamo fare come sapete vi faccio vedere il calendario quando c'è il mercato noi ci simuliamo sempre le partite per concentrarci completamente sugli acquisti sulle cessioni e via dicendo quindi queste tre andranno via simulate però ragazzi non so se farò due episodi di mercato oppure uno solo dipende da quanto tempo ci mettiamo di solito ragazzi questi episodi sono quasi tutti live senza molti tagli perché vi faccio vedere come lavoro in generale nella carriera avanzo il tempo ragazzi interrompo perché comunque pensavo arrivasse qualche offerta non è arrivata allora facciamo gli allenamenti che sono fondamentali a qualcuno non piacciono questi giocatori che ho messo ma servono sia per gli obiettivi guidi diventa un 60 obiettivo raggiunto quindi va bene così vediamo un po' se mi ha dato ora l'obiettivo spero di sì vediamo vediamo ah è pure sceso di uno l'overall vabbè non pensavo bel lavoro ok perfetto quindi aumenta il valore del club l'abbiamo fatto attenzione ragazzi corlu vuole essere ceduto in prestito quindi potremmo darlo e galano come vi ho detto l'abbiamo venduto andiamoci a vedere gli obiettivi perché a quanto pare vedete abbiamo superato il valore del club del 50% entro due stagioni quindi già fatto perfetto poi aumenta il valore di un giocatore del vivaio di almeno 10 punti quindi schierola in campo per 5 partite a titolare o a gare in corso ah quindi adesso deve fare 5 partite a titolare o a gare in corso va bene va bene si può fare poi guadagna 8 milioni dalla vendita delle magliette in una stagione ci siamo più o meno ora dobbiamo provare il grande colpo tanto 3 milioni li abbiamo campionato ci siamo finanze ok direi che stiamo andando proprio perfettamente rischiamo di chiudere tutti gli obiettivi queste qui queste tre che ci simuliamo ragazzi non posso mettere guidi perché poi l'allenatore in seconda me lo toglie e non me lo fa giocare quindi quando giocheremo noi poi lo metteremo in campo questo è scontato scontato sì scontato allora andiamo a vedere io ho sempre il mio crecco che vorrei comprarmi martinez che mi piace un casino la clausola recessore di 13 milioni addirittura ragazzi poi sciamacca mi piace e di akate io vorrei prendere un'ala destra principalmente però qualora mi dovessero accettare questi giocatori non sarebbe male allora facciamo una cosa io di akate un bel centrocampista che vorrei provare a prendere alcuni giocatori li sto già facendo seguire ragazzi quindi per il momento aspettiamo che ci arriva il rapporto dell'osservatore per vedere un po' che succede ecco qui alessandro micai 7 milioni e 2 dall'ellas verona oddio ragazzi sono tanti soldi per un giocatore di 24 anni con un 74 di overall e vediamo allora facciamo così tratta vi faccio vedere un po' la trattativa vabbè schippo abbastanza voglio fare una nuova offerta voglio che lo vendo almeno a 9 milioni a 9 milioni ragazzi un portiere di 24 anni si dà non penso che accettano no sempre 7 8 no io faccio di nuovo la contro offerta fai nuova offerta ve l'ho detto meno di 9 milioni non lo voglio dare comunque il mio portiere titolare ci tengo a finire la stagione con lui ok è di più e quindi non è il caso non è il caso 7 8 no non va bene quindi rifiuta mi dispiace caro verona ma non possiamo chiudere il trasferimento perché non è cosa non è cosa allora avanziamo togliamo questa offerta dai almeno qualcosa che mi arriva qui di offerta se no devo andare io diretto aspettavo che mi arrivasse vabbè simuliamoci questa partita fuori casa ragazzi lo so che è difficile qui rischiamo la brutta figura però quando faccio il mercato ragazzi non posso mettermi anche a giocare se no è un casino questo lo sapete ho sempre fatto così e continuerò a fare così vantaggio brienza sul rigore mamma mia brienza ma perché te ne vai lo ripeterò sempre maledizione quindi vantaggio brienza speriamo di riuscire a tenere il risultato certo l'ascoli non è l'ultimo arrivato ecco 2 a 0 marrone addirittura ragazzi vincere fuori casa no infortuno brienza vincere fuori casa qua è tanta roba vinciamo 2 a 0 perfetto non me l'aspettavo di vincere perché fuori casa è un po strana la situazione allora io direi ora di modificare un po guidi gli mettiamo solo un allenamento e modifichiamo mettiamo qualche altro giocatore io sinceramente vorrei allenare zanellato vi dico la verità facciamo dribble alle porte che è ottimo berardi lo voglio lasciare corlu ormai è già comunque salito quindi posso pensare di allenare qualche qualche altro giocatore come petriccione che mi piace li metterei più nei passaggi e poi zanellato berardi anderson che comunque ci tenco e guidi dai vanno bene così le simulazioni vediamo se sale qualcuno prende una buona guidi e anche berardi devo dire quindi berardi uscita su attaccante perfetto allora tre email nazionale non mi interessa giocatore infortunato sette giorni vabbè possiamo ovviare grazie mister figura ti teglio non ti preoccupare allora ora andiamo a fare le offerte ragazzi a questo punto perché non mi arrivano i rapporti dei degli osservatori quindi dobbiamo andare noi a trattare allora questo martinez ragazzi mi piace troppo e vabbè posso offrire massimo 3 milioni so che non me lo daranno mai per questa cifra penso però proviamo uno scambio allora non so cosa interessa principalmente io provo a metterci comunque attaccanti facciamo attaccante per attaccante magari provo a metterci si se non so se può interessare vediamo difensore centrale gli serve e vediamo chi abbiamo come difensore centrale da dare è ma sono tutti titolari alla fine solo tonucci potrei pensare di dare vediamo se accettano siamo disposti a prendere in considerazione madonna mia 14 milioni ma voi siete impazziti facciamo una contro offerta offriamo tutti i soldi che abbiamo ragazzi ma vabbè mi sa che lascio stare perché non accetteranno mai è così infatti come prevedevo vabbè pretendevo un po troppo forse ragazzi io andrei su un ala ok allora ragazzi attenzione perché arriva qualche offerta per cassani offerta da 870 mila per bascia un milione 950 allora bascia c'ha già 31 anni non è male come offerta almeno 2 milioni vorrei ricavarli sicuramente dal parma poi in serie b tanto questo è candidato anche a scendere allora mi offrono 1 950 allora facciamo una nuova offerta dai secondo me allora facciamo 2 milioni e 2 potrebbe arrivare il parma offrirli vediamo non voglio chiedere proprio tantissimo altrimenti so che poi rifiuta vediamo vediamo che dicono ci tengo ad avere bascia nella nostra squadra 2 milioni dai 2 milioni ragazzi diamolo bascia l'ho fatto giocare un pochettino per non farlo stare troppo scontento ecco vedi morale scontento quindi lo diamo via ragazzi e prendiamo un pochettino più di soldi per cassani sinceramente ok c'ha 34 anni trattiamo perché lì potremo far giocare delia al limite che è un ottimo difensore però però trattiamo cioè io per cassani almeno voglio 1 e 3 perché altrimenti non lo do via sinceramente perché comunque ok c'ha 34 anni ma un 71 e mi ha giocato bene quindi vediamo 8 e 70 contro offerta fa una nuova offerta facciamo 9 e 70 allora dai dovete cercare di arrivare perché se no no è la nostra ultima offerta mi dispiace e allora rifiuto ragazzi non è che posso scendere a compromesso con loro se lo vogliono questa è la cifra per il momento stiamo più vendendo ragazzi che acquistano tanto a noi un colpettino massimo due ma penso uno alla fine vorrei fare quindi tutto il tempo ce l'abbiamo ora arriva il palermo però giocando in casa già possiamo simulare offerta ritirata ok vediamo bussellato vorrebbe giocare io lo metto però sperando che oddio brienza ok rinfortunato mettiamoci in prota io spero lo faccia giocare il mio allenatore in seconda perché a volte non lo mettono però speriamo allora simuliamoci questa e vediamo che succede giochiamo in casa però il palermo sapete che è una grandissima squadra subito marrone al primo minuto mamma mia questo bari che abbiamo creato ecco ma sono bufata coronato segna e ci hanno anche nostro nostro roschi giocatore sicuramente da serie a in attacco bello forte palermo martigno 2 a 1 mamma mia no infortunato gomber speriamo non si sia fatto niente di che è pareggia bellusci maledizione un difensore poi già segnato vediamo se riusciamo a tenere il 2 a 2 non è male marrone sul rigore ragazzi che ve lo dico a fare abbiamo vinto anche contro il palermo mamma mia che spettacolo qui facciamoci i nostri soliti allenamenti e vediamo vediamo se riesce a salire magari qualcuno sarebbe una gran cosa berardi berardi diventa un 66 dai è vicino al 70 oddio vicino mancano quattro unità però tutto sommato ci siamo quattro punti overall e arriva sul 70 giocatore infortunato tre giorni di ombra ok niente di che ok ci ringrazia busellato dire di andare avanti vediamo non abbiamo ancora venduto direi nessuno quindi vediamo un po li avevamo accettato ma se non raggiungono l'accordo col contratto è difficile ok ragazzi bascia venduto perfetto poi ho chiesto informazioni su marco meli ragazzi perché è un ala destra 17 anni della frentina parte già da 61 come overall questo ragazzi una stagione arriva a 70 ad occhi chiusi secondo me solo che è appena arrivato quindi per il momento non è facile andare a prenderlo poi ragazzi reso conto su irstov che è un gran bel difensore centrale di 62 con 18 anni lui vabbè ce l'andiamo a vedere nel loop di mercato poi ho chiesto anche su ateboer 72 ragazzi questo è il colpo a destra che dobbiamo fare secondo me ci possiamo pensare perché veramente un gran bel giocatore un milione e mezzo in più ci è arrivato ok io cercolo alla destra ragazzi ve l'ho detto però serve anche un terzino destro lo avete consigliato anche nei commenti quindi vediamo tanto ci possiamo pensare anche l'anno prossimo nel caso vediamo un po dove dove non me l'ha messo qui maledizione perché non me l'ha messo qui eccolo qui ragazzi ateboer 72 con 24 anni nessuna clausola regissoria e ci dicono che almeno 4 milioni dobbiamo spendere lì per prenderlo dai trattiamo vediamo se riusciamo a scontare un pochettino la situazione vale 3 milioni e 4 facciamo mettiamo uno scambio dai chissà risparmiamo io metto sempre l'attaccante metto sempre si sia alla fine però dobbiamo vedere cosa gli serve vogliono un difensore centrale offri altro giocatore mettiamoci tonucci che è un po fuori dal progetto vediamo se può interessare tonucci non ci interessa ok allora andiamo solo sul cartellino diretti io direi vale 3 milioni e 4 andiamo su 3 milioni secchi vediamo che dicono vediamo mi dire che non va bene è troppo bassa facciamo una contro offerta dai fa una nuova offerta allora offriamo sui 3 milioni e mezzo dai il valore 3 4 trattiamo su 3 e mezzo vediamo se non si arrabbiano perché sarebbe un bel giocatore non è male come offerta ma riteniamo che a te boer valga di più ok sono già scesi come pretese facciamo una nuova offerta dai allora facciamo 3 e veniamoci incontro 3 8 penso che 3 8 potrebbero accettare penso sia giusta ok no 3 8 e 5 vabbè dai per 50 mila euro ragazzi non voglio far saltare la trattativa ora dobbiamo trattare per il contratto e speriamo non voglia veramente troppo però questo è un gran bel colpo secondo me ruolo vuole ruolo cruciale è sì tanto poi andiamo a mettere titolare poi vediamo lui chiede due anni contro offerta io almeno tre anni glieli vorrei offrire vediamo che dice ok va bene perché è un peccato se non solo due anni no 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 clausole no nemmeno voi noi vogliamo inserire una clausola ok parliamo di soldi l'ingaggio io gli darei sinceramente ragazzi un 16 mila vediamo bonus di ingaggio per ora non metto niente vediamo che ci dicono loro il mio assistito vuole 13 mila settimana 185 mila dopo 10 reti inviolate dai si può fare ragazzi accettiamo così ecco qui il nostro acquisto ce lo siamo portati a casa un bel terzino destro ci sono rimasti adesso 469 mila euro quindi quasi nulla però dai abbiamo chiuso comunque un bel ingaggiato un fuoriclasse addirittura certo per la categoria the boy è sicuramente un fuoriclasse lo mettiamo in campo qui giocherà ora sicuramente al posto di bash che abbiamo venduto ci mettiamo o greco sto pensando o greco o za ma io giocherei proprio con zanellato ragazzi perché già un 65 può crescere veramente tanto bene ragazzi non ci resta nient'altro che avanzare quindi avete capito che il mercato alla fine vorrei farlo tutto qui signor ricky volevo avvisarla che il contratto di brienza in scadenza e la squadra underlecht gli ha offerto un pre contratto vabbè non ci interessa ragazzi perché alla fine si glielo possiamo anche rinnovare il contratto ma mi sa che non si poteva fare sapete non so perché vediamo un attimo c'è un'offerta qui per micai 7 milioni 7 dal deportivo attenzione ragazzi facciamo così delega offerta di partenza non vendere per meno di 9 facciamo meno di 9 ok facciamo così perché sinceramente non mi va di svenderlo quindi brienza forse si può rinnovare come contratto non lo so io sinceramente mi ricordavo che non si poteva fare vi dico proprio la verità però se si può fare meglio così io ragazzi ho visto che si ritirava a fine stagione quindi non penso si possa fare vediamo allora brienza eccolo qui contratto vedete non mi fa fare nulla vabbè si è accordato con l'underlecht forse vabbè sti cavoli quindi ragazzi simuliamoci questa col brescia l'ultima di oggi è qua fuori casa e col brescia è durissima ci hanno rinaldi torregrossa lunghi anche bisoli gastaldello in difesa è una bella squadra il brescia c'è anche caraccio numero 9 in panchina vediamo almeno di reggere il pareggio che sarebbe fondamentale dopo quello conquistato contro il palermo vediamo per il momento ancora 0 a 0 non succede mamma mia marrone no peccato subito rinaldi col pareggio vediamo dai 1 a 1 è quello che non che mi aspettavo ma che speravo tutto sommato allora facciamo un attimo gli allenamenti vedete siamo ancora lì belli alti in classifica vediamo vediamo se sale qualcuno sarebbe ottimo no però guidi sta salendo mamma mia un casino e anche zanellato è vicino a 66 quindi niente male zanellato ultime ore di mercato è arrivata un'offerta per sabelli ragazzi allora conferenza stampa ok motiviamo i nostri giocatori direi ragazzi sabelli come avevo detto l'anno scorso c'è l'anno scorso nel mercato estivo non l'ho voluto vendere l'ho voluto tenere a questo punto 25 anni 67 io lo vado a cedere sapete perché perché abbiamo preso a te boer e abbiamo anderson quindi sabelli secondo me può andare via offre 7 e 90 dai trattiamo però voglio strappargli al parma almeno 850 vediamo che dicono fa una nuova offerta dai 8 e 50 penso che il parma ci può arrivare non parliamo di un giocatore chissà che però vediamo allora ha giocato bene con noi tutto sommato ok offrono 850 perfetto vediamo se si accordano adesso quindi togliamo qui penso che il mercato stiamo gestendo benissimo poi mi dite voi nei commenti se la pensate come me diciamo uh attenzione andate al bayern monaco cutigno grande attesa per il debutto di a te boer abbiamo gestito bene tutto sommato perché abbiamo fatto cessioni e acquisti volevo informarla che brienza fra meno di sei mesi trovano un accordo ok va bene micai 7 milioni e 7 ragazzi non erano disposti a offrire più di 7 e 7 vabbè e allora micai ce lo teniamo io direi che ci serve anche perché pure per la prossima stagione possiamo utilizzarlo tutto sommato allora ultime 8 ore il mercato vabbè ragazzi non faccio altri acquisti perché avete visto non posso spendere ulteriori soldi sabelli l'abbiamo venduto perfetto è arrivata un'offerta per tonucci che io volevo vendere ragazzi vi dico la verità perché c'è 29 anni un 69 dobbiamo monetizzare allora trattiamo però vorrei prenderci almeno 900 mila si abbiamo sfoltito un pochettino la rosa adesso fanno una nuova offerta vediamo almeno 900 mila me li dovete dare chi è che me l'ha richiesto pare tipo l'hamburgo una cosa del genere non ho visto bene allora ok ci vogliono dare 900 mila perfetto che squadra è boh non riesco a vedere qua il sandausen addirittura vabbè quindi ragazzi direi che stiamo sfoltendo bene tutto sommato come trasferimenti quanto ci hanno dato per la vendita abbiamo un milione e nove però allora facciamo così avanziamo un po fino a 5 ore se non vendiamo lì tonucci proviamo un acquisto vediamo ancora non si sono accordati direi di no e allora ragazzi io andrei su un centrocampista a questo punto anzi vediamo un po la rosa voglio farlo tutto in live con voi vediamo perché avendo venduto ma brienza è tornato ok possiamo metterlo avendo venduto comunque qualcuno dobbiamo gestirci vabbè in difesa forse un difensore centrale perché nel caso poi abbiamo solamente masi se vendiamo tonucci ok poi vediamo da la rosa un pochettino più corta va bene però un difensore centrale magari scambiandolo con un attaccante come si se questi giocatori qui ci possiamo pensare allora ragazzi trattativa per bonifazi del torino voglio provare a vedere cosa interessa principalmente ovviamente noi interesserà mai un attaccante abbiamo capito ok difensore centrale vogliono e no allora facciamo solo l'offerta e ragazzi abbiamo solamente un milione alla fine e noi offriamo il nostro milioncino magari ci rideranno in faccia molto probabile sì però volevo vedere solo se interessava qualcuno come scambio alla fine devo fare per forza così vediamo un po altri giocatori ragazzi capradossi ok lo avevamo noi e l'abbiamo rimandato indietro però adesso ci serve come titolo definitivo nel caso quindi non vale proprio tantissimo il giocatore ma può crescere come prestito direi di no però come magari giocatore che serve per fare numero comunque averlo in rosa ci può stare perché di omber se ne va l'anno prossimo no allora facciamo un'offerta per il cartellino vale 850 noi andiamo sugli 800 fissi vediamo che dicono avanza offerte vogliamo includere anche una clausola dell'uno per cento madonna mia va bene accettiamo affare fatto ragazzi dai forse ci riprendiamo capradossi però questa volta a titolo definitivo e sarebbe a titolo definitivo ottimo ci posso puntare quando era in prestito vi ho detto non mi andava poi vabbè abbiamo venduto tonucci ah va bene dai turnover 10.500 dai ragazzi acquistato a tutti gli effetti penso vediamo vediamo se accettano ok direi che ormai capradossi è nostro ragazzi ecco clausola stipendio vabbè qua facciamo la nostra solita offerta diamogli 10.000 vediamo che dicono tanto poi ce la adeguano ragazzi non vi preoccupate ok 8 e 7 anche di meno dai modifica bonus rimuovi bonus facciamo così modifica mettiamo qualcosina in più magari allora facciamo 6 bonus di incaggio mettiamo così ok avanzo offerta vediamo penso che vabbè per forza sono d'accordo non ci siamo vabbè quindi non vuole più venire oddio l'avevo dato per certo capradossi ragazzi ma mi ha fregato rimangono ragazzi pochi giocatori allora kresic romagna e gabbia del minano che è una scommessa è chiosa che conosco il strovo non può venire perché non ha intenzione di andarsene proviamo con romagna che è un bel giocatore secondo me hanno è stato acquisito di recente a post quindi manco possiamo prenderlo va bene allora vediamo kresic o chiosa vai vediamo prima kresic perché comunque un buon giocatore dell'avellino principalmente per fare numero per il momento però vediamo ok sempre scambio vediamo sempre l'attaccante non mi dire che pure questi vogliono un giocatore come difensore centrale come ruolo vediamo vabbè ma tutti ruolo per ruolo vabbè offriamo solamente un milioncino che è quello che abbiamo e vediamo che dicono dai giochi pure in serie b secondo me si può fare siamo soddisfatti forse l'ho pagata anche un po troppo ragazzi però a fine mercato comunque quei soldi poi non ce l'abbiamo più per il mercato quindi ci può stare dai kresic secondo me ragazzi non lo sottovalutate che è un buon giocatore almeno nella realtà a me piace poi non lo so se su fifa è interessante non potevamo chiedere l'overroll perché comunque mettiamo promessa perché secondo me parte basso doverroll perché se non avevamo tempo allora non ci siamo vuole giocare sporadico vuole ruolo sporadico vabbè tre anni si va benissimo vediamo no ignora la clausola un milione e tre nel contratto la recessoria vabbè allora mettiamogliela tanto tutto sommato ci può stare lo stipendio quanto vogliono quanto vuole più che altro mettiamoci tipo tre perché non so quanto mi chiede allora mi sembra un'offerta ecco oddio ragazzi gliel'ho messa a bassa perché pensavo non accettasse vabbè dai ci può stare calcolate che è un giocatore del genere 62 prende 4.700 di stipendio vediamo lui quant'è non mi dire sotto il 60 perché se no non è giusto dov'è ah un 65 ragazzi ottimo 76 di forza fisica buono buono ragazzi può fare anche il cdc 1.98 di altezza 22 anni questo è un bel colpo diciamo un colpo arrivato un po' nell'ombra ma mi piace un sacco quindi dopo a tebor arriva un altro straniero questo lo so avevo detto massimo 1 massimo 2 stranieri però erano interessanti come colpi e quindi sono andato a chiuderli morleo ok gli ha fatto un'offerta il brescia vabbè sti cavoli tonuccio è stato venduto quindi sono arrivati altri soldi che però adesso non useremo sicuramente vediamo si dai questi qui ce li teniamo per gli stipendi quindi ragazzi direi che siamo nel finale perfetto la grandissima è andato in prestito che andreva ma che cose fanno non lo so quindi archimede morleo vabbè se ne andrà tanto già non lo volevo almeno se ne va peccato non ho ricavato nulla nessuna offerta però non importa allora è corlu ho capito che volevi essere mandato in prestito ma se non ti arrivano offerte non ci posso fare niente allora ragazzi vediamo calendario nel prossimo episodio penso giocheremo queste 4 partite ne sullimuliamo una di queste poi vediamo e dobbiamo fare un po' di partitelle per finire il campionato non tantissime più o meno vi faccio una media così vi interessa bene qua un episodio qua forse un altro un altro ancora 4 5 episodi per finire la stagione ci vogliono ragazzi però siamo primi in classifica netti quindi direi che va benissimo quindi ragazzi io direi che questo episodio si può chiudere qui tanti pollicioni in su mi raccomando tanti mi piace un'iscrizione al canale noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao